Mia mamma quando è morta era incinta. Guiro Borghi la dichiara in stato di fermo per l'omicidio di Maurizia Scalzi. Tua sorella non è morta. Sole. La vera sole. E lei che è morta l'ottavo mese di gravidanza. Il motivo per cui non volevi che Gioia parlasse della bambina, sei tu. Sapendo che Maurizia era incinta, eri terrorizzato, sarebbero arrivati a te, al padre, che sei tu. Sì? Puoi andare tu che io sto finendo i conflitti con Sole. Sorpresa. Sì.